Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Si terrà domani in tribunale ad Ancona l'udienza di convalida per Massimo Renelli l'autotrasportatore senigalliese arrestato dalla polizia dopo aver investito e ucciso due donne sul profilo Facebook sono apparse frasi di condanna e insulti disposta all'autopsia sui corpi di Elisa e Sonia mentre il giorno dei funerali a Colle Metauro sarà l'usco cittadino a Fossombrone i carabinieri tolgono le chiavi dell'auto ad un 24enne ubriaco per evitare che si mettesse alla guida la Befana arriva dal cielo e consegna oltre un migliaio di calze ai bambini in piazza a Fano Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del telegiornale cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 allora il giorno dopo la tragedia la tragica morte di Elisa e Sonia le due donne travolte e uccise da un 47enne autotrasportatore di Senigallia autotrasportatore che resta in cella di sicurezza in questura ad Ancona in attesa domani dell'udienza di Convalida Tanti messaggi di cordoglio alle famiglie delle due donne uccise tutte e due unite dalla passione per il ballo intanto a Colli al Metauro il sindaco ha proclamato il lutto cittadino ma andiamo a collegarci con Calcinelli di Colli al Metauro all'esterno della chiesa Santa Croce dove c'è Lino Balestra e dove ci sono persone che stanno partecipando ad un momento di preghiera organizzato dalla comunità locale A te Lino Buonasera a tutti come hai detto da studio una intera comunità religiosa ma anche tantissimi cittadini vogliono far sentire la loro presenza e la loro vicinanza alle due famiglie così colpite improvvisamente da questa sciagura il sagrato della chiesa è stracolmo di macchine come lo è stracolma la chiesa veramente ai limiti della capienza noi siamo qui quasi dalle 8 e dall'ora fino adesso che stiamo andando in onda è stato un flusso continuo di gente di giovani di famiglie intere di uomini di persone che sono volute essere qui questa sera per partecipare a questa veglia di preghiera appunto come hai detto tu in ricordo di queste due persone scamparse in questo tragico evento proprio ieri mattina alle 5 di ieri mattina ma ripercorriamo nel servizio che la regia fra poco manderà in onda insomma quello che è accaduto dalle 4 in poi di ieri mattina 6 gennaio la regia può mandare il servizio morti assurde senza un perché morti alle quali non ci si rassegna sono quelle della strada in queste ore dopo lo shock per la morte delle due donne di Colli al Metauro e sotto l'impulso anche di altri episodi a livello nazionale in molti soprattutto in rete tentano di trovare una definizione dando sfogo alla propria frustrazione che possa essere calzante per l'ennesimo episodio di strade insanguinate ma in fondo quale che sia la causa tutte le morti sono assurde maggiormente quelle della strada e trovarne una plausibile ragione non mitiga certo il senso della perdita Elisa maestra 43enne Sonia di 34 non ci sono più un'auto guidata da un ubriaco alle 4 e 30 della mattina del 6 gennaio le ha falciate come spighe di grano al vento lungo la provinciale arceviese scaraventandole in un campo a oltre 10 metri di distanza dopo averle centrate in pieno uccidendole sul colpo Elisa e Sonia unite dalla stessa passione il ballo e non lo sballo e la musica in uno dei tanti locali che in queste giornate di festa erano nel pieno dell'attività il Megà proprio lungo la provinciale 360 e dal quale erano appena uscite dopo una serata di divertimento sono le 4 e 30 della mattina quando Sonia ed Elisa sono uscite dalla discoteca Megà e si sono avviate dopo aver passato una bella serata in discoteca verso la loro auto in quella direzione Elisa e Sonia erano assidue frequentatici del locale ma non erano delle sprovetute e non affrontavano le situazioni con l'incoscienza e l'invidiabile leggerezza delle adolescenti Elisa la maestra aveva acceso anche la torcia del suo cellulare per rendersi più visibile trovato poi nel campo a poca distanza dal suo corpo e quindi conoscevano la zona e le sue insidie ma questo non le è bastato e probabilmente non era la prima volta che adottavano lo stratagemma di parcheggiare lontano dal locale in occasione di serate da tutto esaurito e quando sono state investite stavano andando proprio verso la loro auto ma le due sfortunate amiche alla loro auto non sono mai arrivate dall'uscita della discoteca alla loro auto parcheggiata in quello spiazzale laggiù in fondo distano poco più di 100 metri però in questo punto esatto nel quale mi trovo come testimonia il mazzo di fiori sono state centrate in pieno dall'auto ad investirle è stato Massimo Renelli 47enne autotrasportatore di Senigallia anche lui uscito dalla stessa discoteca delle due vittime ma con in corpo tanto alcol da fargli superare di quattro volte il limite consentito ma che non gli ha impedito di salire sulla sua auto una punto grigia e di mettersi in strada verso Senigallia e di travolgere le due amiche tutta da ricostruire però l'esatta dinamica dello schianto mortale da parte della polizia stradare i rilievi dovranno accertare se le due donne stavano attraversando la strada in corrispondenza della guardrail e a quale velocità l'auto stava andando Renelli ora si trova in camera di sicurezza nella questura di Ancona domani alle 10 lo attende l'udienza di convalida dell'arresto e gli esiti anche del test sull'assunzione di droghe l'accusa per lui è pesantissima duplice omicidio stradale e rischia una condanna ad oltre 10 anni di carcere bene la cronistoria è quello che è avvenuto nella tragica mattinata di ieri ma in queste ore il PM Ruggero di Conso ha disposto l'autopsia sui corpi di Sonia Ferraris 34 anni e di Elisa Rondina 43 appunto insegnante di scuola primaria entrambe come avevamo detto di Colli al Metaro l'autopsia verrà eseguita il 9 gennaio dal medico legale Manuel Papi questo per dire che molti ci hanno chiesto proprio anche qui mentre eravamo in postazione la data dei funerali però per questo bisognerà appunto attendere il nulla osta dopo venerdì prossimo giorno in cui verrà eseguito l'esame autoptico sulle due salme ma anche dal fronte di Renelli ci sono dei delle evidenze perché dice il suo avvocato che Marusca Rossetti che lui non si è accorto delle due donne che camminavano sul ciglio della strada è prostrato dal dolore ha detto appunto illegale e che nel momento in cui si è messo alla guida non si sentiva alterato ma chi erano Elisa e Sonia ripercorriamo in questo servizio di Francesco Salvago un po' il profilo di queste due giovani vite erano amiche da tempo ed entrambe secondo i conoscenti e amici più stretti erano brave e sane ragazze due concittadine che la comunità di Calcinelli di Colli al Metauro ricorda stretta nel dolore in via Villa Franca questa mattina alla serranda della parrucchieria dove Sonia era la titolare è chiusa all'ingresso un omaggio floreale a ricordare la persona generosa solare ed altruista descritta così da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla Sonia 34enne aspettava ancora di conoscere un suo futuro compagno ma recentemente aveva deciso di dare una svolta alla sua vita rendendosi più indipendente da poco infatti aveva acquistato casa non molto distante da quella dei genitori una nuova avventura che per lei era molto importante e che fino all'ultimo l'aveva raccontata anche ai suoi clienti Elisa 43enne invece era un'insegnante elementare dell'istituto comprensivo di Monte Felcino con sede a Tavernelle insegnava storia geografia amava i bambini ed era andata a vivere da sola con una cagnolina di nome Milù secondo i colleghi di lavoro era una persona attenta agli altri simpatica solare e appassionata della vita e piena di interessi tra cui il ballo e la cucina due vite spezzate così come i sogni e le speranze di vita futura per le due giovani donne da un incidente stradale provocato da un'auto condotta da Massimo Renelli 47enne autotrasportatore di Senigallia conosciuto come gestore del circolo Acli di Cannella secondo i soci aveva abbandonato il camion per stare vicino ai due figli quando nel 2017 aveva preso in gestione il circolo la comunità di Colli al Metauro si è stretta alla famiglia delle vittime dove il sindaco Guzzi ha espresso il proprio cordoglio c'è una forte recrudescenza in questi ultimi periodi di questi fatti molto gravi causati dall'imperizia dalla disattenzione dall'abuso di alcol ecco io credo che più attenzione creiamo su questa questione e più servizio facciamo alla collettività quindi questo lutto cittadino vuole essere una vicinanza alle famiglie indubbiamente ed innanzitutto ma vuole essere anche un porre l'attenzione su un problema che è sempre più evidente ecco quindi la vicinanza anche della comunità civile e non solo quella religiosa alle due famiglie colpite da questo lutto per la appunto scomparsa di queste due giovani figure che avete sentito descritte nel servizio ma c'è una comunità nella comunità che è quella scolastica perché una delle due era un insegnante di scuola elementare conosciutissima amatissima dagli alunni dalla comunità appunto scolastica da docenti e da soprattutto da dirigenti scolastici e quindi questo è un altro aspetto di questa vicenda i piccoli alunni come l'hanno preso e allora noi stamattina siamo stati anche nella scuola dove fino a pochi giorni fa insegnava la maestra sentiamo nella scuola elementare a Tavernelle si fa fatica a continuare le attività didattiche dopo la tragica notizia che ha sconvolto anche i colleghi alunni di Elisa veniamo accolti da Alessandra Biagiotti fiduciaria della scuola primaria e collega ed amica stretta della giovane vittima da tempo insegnava nella stessa classe con mansioni differenti era la migliore ci dice e con la voce spezzata dalla commozione racconta la cara amica scomparsa Elisa era una collega e anche una nostra amica stamattina è stata dura per tutti venire a scuola dopo la tragica fatalità di ieri perché eravamo quasi tutte incredule a questo accaduto perché Elisa lascerà un vuoto in tutte noi e anche nei bambini che stamattina molti soprattutto quelli della classe quinta hanno dimostrato di essere molto fragili e ricordare insomma con molto affetto hanno voluto redigere dei piccoli pensieri proprio per la maestra Elisa e c'era tanta commozione anche nei bambini Elisa lavorava nel plesso dal 2009 come ci racconta il dirigente scolastico io l'ho conosciuta quattro mesi fa quando ho preso l'incarico qui in questa scuola la cosa che ho apprezzato tanto di Elisa è stata la sua professionalità la sua passione per il lavoro il modo di gestire la classe il modo di gestire i bambini lei faceva anche parte del nucleo interno di valutazione che è un gruppo di lavoro che si riunisce nei pomeriggi per redigere alcuni documenti importanti per la scuola e ha sempre dimostrato una grandissima professionalità oltre 40 invece i messaggi sul profilo facebook di Sonia l'imprenditrice di Calcinelli coinvolta insieme a Elisa nella tragedia dell'epifania in un post si legge una dedica di un'amica ho sempre sospettato che fossi un angelo sulla terra nonostante la tua vita non sempre facile la cattiveria non faceva parte di te ti dicevo sempre di non cambiare mai di non ascoltare nessuno perché tu eri speciale come pochissime persone al mondo abbi cura di te lassù ti abbraccio forte bene questo è uno spaccato di queste ore ma all'interno della chiesa sta continuando la veglia di preghiera altre persone stanno continuando ad arrivare come vedete in questo momento e quindi ora si attende di stringersi attorno alle famiglie dopo l'esame autoptico per il giorno del funerale ma intanto la giustizia va avanti domattina ci sarà un altro passaggio importante con l'udienza di convalida da parte dell'investitore nella procura di Ancona questo è tutto da Calcinelli restituisco la linea allo studio bene grazie a Lino Balestra per questa corrispondenza e adesso andiamo avanti con il nostro giornale incidente stradale a Lucrezia di Cartoceto tra un'auto e uno scooter intorno alle 18.30 di oggi pomeriggio queste sono le immagini all'origine di questo scontro pare ci sia una mancata precedenza dell'auto condotta da un residente del posto che percorreva via Vespucci intento a svoltare a sinistra ai danni dello scooter che invece proveniva dalla direzione opposta ai rilievi di legge dovranno stabilire l'esatta dinamica rilievi eseguiti dai carabinieri di Fossombrone mentre sul posto per soccorrere lo scooterista minorenne è arrivato un mezzo del 118 che lo ha trasportato per accertamente al pronto soccorso di Pesaro il giovane comunque non ha mai perso conoscenza e i carabinieri della compagnia di Fano hanno effettuato una serie di controlli in diversi locali proprio sotto le festività in questo ultimo fine settimana per contrastare l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e hanno tratto in arresto un 24enne che completamente ubriaco ha aggredito i militari un arresto e due denunce questo il bilancio dei controlli disposti a cavallo dell'epifania dalla compagnia carabinieri di Fano che ha visto impegnati tra gli altri i carabinieri della stazione di Fossombrone e il personale del nucleo cinofili di Pesaro sono stati controllati diversi locali e pubblici esercizi del posto gli avventori ed anche i gestori verificando la regolarità delle autorizzazioni amministrative e delle attività di somministrazione in uno di questi locali militari hanno proceduto al controllo di un 24enne del posto in evidente stato di alterazione da abuso di bevande alcoliche i carabinieri che già conoscevano il giovane hanno ben pensato di ritirargli improvvisamente le chiavi della macchina con lo scopo di evitare che il ragazzo in quello stato si potesse mettere alla guida del mezzo ma nei pressi della stazione dei carabinieri però l'epilogo davanti ai genitori convocati per la riconsegna del mezzo il giovane ancora in stato di alterazione ha improvvisamente e immotivatamente aggredito con pugni e calci militari presenti i quali non hanno potuto far altro che bloccarlo e dichiararlo in stato di arresto nella mattinata odierna si è svolta l'udienza di convalida richiesta dalla procura della Repubblica del Tribunale di Urbino il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di permanenza in casa durante l'arco notturno sempre nel corso degli stessi controlli grazie anche all'utilizzo dell'unità cinofila antidroga un giovane del posto di 32 anni è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina e denunciato come anche denunciato il gestore di uno dei bar sottoposti ai controlli per somministrazione di bevande a persone in stato di manifesta ubriachezza ed i clienti sono stati a loro volta multati per ubriachezza molesta in luogo pubblico ed ora spazio ancora le vostre segnalazioni questa sera andiamo a San Lazzaro in un quartiere di Fano per farvi vedere questa fotografia che uno dei nostri reporter ha pubblicato nel nostro gruppo Facebook si tratta di come vedete dei divani che sono stati abbandonati nel parco praticamente sotto questi palazzi e che sono lì in bella vista come dire anno nuovo ma vecchie abitudini e adesso apriamo la pagina dedicata agli eventi di questo fine settimana eventi che sono naturalmente dedicati alla Befana l'Epifania quest'anno due come di consueto a Fano gli appuntamenti uno al mattino all'aeroporto e poi il pomeriggio in piazza 20 settembre ieri mattina all'aeroporto di Fano complice la bella giornata nonostante l'aria frizzante tantissime famiglie fanesi hanno deciso di non rinunciare allo spettacolo delle Befane volante eh sì perché non tutti sanno che a Fano la Befana è arrivata veramente dal cielo ma non in sella la sua vecchia scopa ma a bordo di un più comodo e sicuro aereo dell'aeroclub fanese durante il momento più atteso occhi puntati verso l'alto per vedere le Befane atterrare dal cielo e con il loro grosso paracadute sono arrivate fin sullo scalo Enzo e Valtero Miccioli per poi donare ai più piccoli calze cioccolate e caramelle sono state distribuite 100 calze che sono state date dall'assessore Lucarelli e dalla Proloco e in più sono stati distribuiti 5 cartoni da 5 sacchi ognuno di caramelle e sono finite tutte ecco dentro questi sacchi con le caramelle c'erano tre premi che è un premio dato dalla Eagles un premio dato dalla Aeroclub e un premio dato dal Barone Rosso un successo veramente straordinario non si immaginava un pienone del genere i bambini straordinari sono rimasti tutti quanti contenti pensiamo che siano stati intorno alle 1500 persone quindi un successo veramente molto molto ampio e forte durante la mattinata oltre alla distribuzione della cioccolata calda è stato possibile ammirare i passaggi in formazione e le acrobazie dei piloti che hanno regalato stupore sia ai più piccoli che ai più grandi insomma anche quest'anno l'aeroporto di Fano ha conquistato tutti l'aeroporto è vivo l'aeroporto comincia a essere conosciuto ma soprattutto la nostra politica la nostra politica è l'aeroporto è della cittadinanza di Fano quindi i cittadini di Fano ci devono venire a trovare sempre più numerosi e veramente passerete delle ottime e belle giornate si abbastanza per i bambini è molto impressionante diciamo Gini hai ciao i bambini si stanno divertendo si molto siete arrivati in San Di Fano si siamo di Fano veniamo sempre siamo stati anche all'aeroporto questa mattina avete preso la calda si si guarda in questo momento due minuti fa molto carina grazie no di Senigallia si e no al secondo anno si carina il Natale più saluta la città e passa il testimone al Carnevale 2020 con una giornata fatta di laboratori befane volanti grandi spettacoli e tanta dolcezza per tutti i bambini presenti ancora stanno richiedendo calze ma sicuramente in un'altra locazione altro posto ci saranno altre calze per tutti i bimbi che richiedono un vero e proprio passaggio di consegne quello che si è svolto al termine della giornata di ieri in piazza 20 settembre quando la vecchina con la scopa dopo aver consegnato oltre 1200 calze aiutata dalle mitiche befane del Vespa Club Fano e dall'associazione Viviamo Centinarola ha consegnato la sua scopa al Vuron e ha aperto quindi il periodo più colorato dell'anno quello del Carnevale in piazza per la festa una serie di laboratori tra cui Ludobus ed altre iniziative hanno intrattenuto i bambini e famiglie poi i presenti hanno dovuto alzare nuovamente gli occhi al cielo per lo spettacolo suggestivo di circo verticale con le appese che si sono esibite in una danza acrobatica aerea tra fuoco interpretazione e innovazione il tutto a svariati metri d'altezza momento più atteso è stato l'arrivo della Befana che insieme alle sue aiutanti si è presentata in piazza a bordo di una luminosa slitta un evento importante direi a pieno titolo nel panorama della città dei bambini e delle bambine è una degna chiusura di queste manifestazioni natalizie e chiudiamo con un avviso che riguarda sempre i bambini in questo caso si tratta di iscrizioni per le scuole dell'infanzia comunale e statale di Fano per i nati nel 2017 per l'anno scolastico 2020-2021 domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia che dovranno essere inoltrate online collegandosi al sito del comune di Fano è tutto per questa edizione del telegiornale grazie per averci seguito vi auguro una buona serata e vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa arrivederci per la rassegna stampa